cioè io voglio di una cosa oggi perché cioè non è possibile che le ragazze si comportano in questa maniera perché io sono bravo rispetto però voglio anche pretendo rispetto allora ci ho voluto un tanto tempo per iniziare usci con claudia con claudia si l'infermiera innanzitutto per prendere un appuntamento con lei facevo prima se prendevo l'appuntamento per la risonanza magnetica perché mi ha fatto aspettare tre mesi prima di uscirci insieme poi siamo usciti insieme due mesi due mesi mi ha conosciuto io ho pagato diverse cene l'ho portato in giro un giorno siamo andati anche l'italia in miniatura e quindi gliel'ho fatta vedere tutta l'italia e poi dopo due mesi a un certo punto una sera stavamo lì lì per farlo eravamo tutti e due dentro la macchina in un posto un po appartato e quando io praticamente gli sono saltato sopra e lei mi ha detto che c'aveva le cose sue mi ha detto che c'aveva le cose sue io ho detto va bene facciamo domani però dal giorno dopo in poi non mi ha voluto più vedere cioè mi fai spendere le cose ti porto lì dalle miniatura tutto quanto cioè le cose due cioè da me anche una seconda possibilità non ti dico domani ma anche dopo domani invece non l'ho più sentita sinceramente ci sono rimasto male perché non ci sono i miei